Siamo in un manicomio dove il direttore sta passando in rassegna tutte le stanze per vedere se qualcuno è migliorato e quindi può essere fatto uscire. In una stanza ci sono due persone, una che è in cima ad uno scalandrino attaccato al soffitto ed un altro che sta dando la pittura al muro. Il direttore dice loro bene vedo che voi non vi state comportando male immagino che te sei sulla scala per cambiare il tuo punto di vista mentre tu ti stai dedicando ad un'attività lavorativa del tutto normale. Comunque adesso vieni giù scendi dallo scalandrino che ti devo parlare. Quello sulla scala scende ed il direttore gli dice allora cosa facevi lassù? Stavi guardando dall'alto la camera per avere una nuova prospettiva? No direttore stavo illuminando la camera. Come sarebbe? Io sono una lampadina per cui stavo facendo luce al mio amico per tinteggiare. Accidenti ancora non puoi uscire. Il direttore guarda l'altro che ha smesso di dare la pittura. E tu invece perché adesso hai smesso di tinteggiare? Ero contento per te che ti vedevo fare un'attività lavorativa normale. Direttore ho smesso perché non ci vedo più, non c'è più luce, non si può tinteggiare al buio.